Parlando dell'Italia, la prima cosa che mi viene in mente è che abbiamo un grosso bisogno di innovazione. Abbiamo visto dai dati e anche qui nel forum di Cernobbio si sono visti tanti dati che correlano l'innovazione col PIL, correlano soprattutto il digitale con l'innovazione, quindi le cose sono molto legate. L'innovazione è necessaria per la competitività del paese, ma allo stesso tempo abbiamo grossi fenomeni importanti, una transizione grinda a implementare il digitale che può aiutare una popolazione che invecchia. Se mettiamo insieme queste cose abbiamo un'equazione che può diventare esplosiva in qualche anno, ma può essere anche un'opportunità per darci una scossa e portare e andare verso un'innovazione. Sicuramente in questo momento la Fada padrone è l'intelligenza artificiale e il nostro pensiero è che non ci sono scuse praticamente, dobbiamo iniziare a implementare anche noi. Non possiamo aspettare che diventi un gioco per pochi di grandi aziende che possono fare investimenti importanti. Abbiamo le capacità, abbiamo una buona cultura della materia, magari non siamo tantissimi e questo è un po' un problema, ma sicuramente abbiamo anche delle capacità speciali, ad esempio l'automazione, ad esempio la robotica, sono un settore dove l'Italia ha espresso dei buoni valori, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista delle aziende. Quindi questo potrebbe essere una direzione importante da perseguire.